Un marchio storico che ha catturato i cuori e elementi di generazioni di ciclisti e appassionati di ciclismo, esplorando la continua evoluzione dei materiali dei telai, acciaio, alluminio, magnesio, carbonio e nuove sperimentali tecnologie di produzione. Hanno un'estetica unica, sulla strada, nel velodromo e ora anche nel ciclocross. Hanno avuto innumerevoli successi senza che mancasse la giusta dose di dramma. Ma Pinarello torna sempre a lottare. Io sono Forzo Pinarello e cerco di fare le bici più belle del mondo. Io sono Forzo Pinarello, figlio di Nani Pinarello, Giovanni Pinarello. È diventato famoso perché arriva l'ultimo a Giro d'Italia. Ma non perdete la passione, credo. Anzi, l'anno dopo che doveva fare il Giro d'Italia, invece gli diedero 100.000, purché rimanisse a casa per lasciare il posto ad un altro più forte. Con quelle 100.000 lire aprì un negozio di biciclette. Allora, questo è il negozio storico del mio papà, quello degli anni 50. Da qui è partito tutto. Le vittorie portano sicuramente a una maggiore vendita, ma più che altro portano a consolidare il marchio come un marchio top. Anche se non vinci, che può succedere anche che vinci sempre, però se riesci a lavorare bene e cercando comunque di creare un prodotto figo, la gente, sai, non ti dimentica. So, so,